Si può fare un milione di dollari con le criptovalute in un anno, bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, un video un po' di calcolo, un video un po' gioco dove andiamo a cercare di capire se è possibile diventare infinitamente, infinitamente no, diventare molto ricchi con le criptovalute in un anno se parte una super bull run. Molti hanno questo preconcetto, un po' un pregiudizio che all'interno del settore delle cripto si possono fare numeri stratosferici, questo è vero ma molti partono anche dall'idea che utilizzando capitali molto piccoli anche questo settore può dare spazio a improvvise impennate, cambiare totalmente la vita di una persona. E' possibile quindi partendo da un capitale di 10.000 dollari arrivare a fare un milione di dollari in un anno nel settore delle criptovalute, quanta è la performance che serve e nel passato storicamente quali cripto ci sono riusciti e se ci sono riusciti così un po' eliminiamo un po' di idee generalizzate. Ok allora prima di andare avanti in questo video che oserei chiamare video illusione cripto vi ricordo che è aperto il Christmas trading contest per quanto riguarda BitGet, 18 giorni alla scadenza, è già attivo, qui ci sono tutti i trader che stanno partecipando gratuitamente, potete iscrivervi dal link che vi lascio in descrizione. Ragazzi se siete iscritti col mio referral potete partecipare a questo trading contest 500 dollari fino a 500 dollari di premio perché dobbiamo raggiungere 50 iscritti se no sono 250 allora dipende da un po' da questo comunque 500 dollari di premio per quanto riguarda la competition sia per chi fa più volume sia per chi fa il profitto migliore. Non vi fate sfuggire queste occasioni interessantissime anche perché in realtà se fate trading tutto quello che fate sul vostro conto uscirà fuori e quindi parteciperete alla competition è gratuito link in descrizione dovete registrarvi dal mio link di ref e poi registrarvi a questa pagina che ovviamente trovate nel link e qui trovate il bottoncino accedi dovete farlo da computer non va da mobile ragazzi. Se non siete iscritti col mio ref non funziona questa promo quindi mi raccomando ragazzi partecipate gratuitamente a tutto. Allora illusione cripto cerchiamo di comprendere il concetto principale. Allora alcune criptovalute nella storicità degli anni scorsi soprattutto nelle eventuali burn run hanno raggiunto prezzi veramente impressionanti. Vi faccio vedere questo che è l'andamento a base annuale per esempio di bitcoin che ovviamente ragazzi è adesso ve lo metto ecco sulla base del logaritmo e vi fa vedere in maniera molto molto chiara come una burn run che è quella ad esempio che è partita in questa zona può fare numeri interessanti. Nella scorsa burn run alcune criptovalute hanno fatto numeri interessanti questi sono candele di natura annuale però dobbiamo chiederci è veramente possibile partendo da un capitale per esempio di 10.000 dollari che è un capitale neanche troppo basso diciamo che è basso per un discorso di investimento di un certo livello però comunque non è troppo basso quindi non sono le mille dollari insomma che magari molti vanno a ragionare. Se è possibile effettivamente fare numeri importanti arrivare alla fatidica cifra di un milione di euro intanto quanto serve quant'è la performance che io devo andare a creare con una cripto per fare un milione partendo da 10.000 dollari in un anno. Per fare questo calcolo ragazzi andiamo a sfruttare quello che è in pratica il calcolatore che insomma troviamo anche su Banca d'Italia ecco io prendo quello di Banca d'Italia allora qui potete fare una serie di calcoli con il calcolatore partendo da un deposito iniziale di 10.000 dollari. Se io ho un tasso di interesse per esempio di 4% annuo immaginando di non fare nessun versamento aggiuntivo eccetera c'è un interesse semplice del 4% è un interesse composto un pochettino più alto in questo caso perché è basso. Allora in questo caso a noi interesserà calcolare l'interesse semplice non il composto perché semplicemente quando andiamo a ragionare di una cripto che in pratica aumenta di valore come andremo a vedere per esempio qui sul grafico. Cioè se io vado a vedere nell'anno 2020 bitcoin ha guadagnato il 304% significa in pratica che il mio capitale ha guadagnato il 304% in un anno quindi è già inserita questa sorta di interesse composto cioè non c'è un interesse composto perché io non vado ad aumentare i miei bitcoin presenti nel mio portafoglio vado ad aumentare la valorizzazione in dollari dei miei bitcoin. Quindi in pratica se io avevo comprato un bitcoin nel 2020 al minimo che erano 3.850 al massimo del 2020 mi ritrovo con un bitcoin che varrà 29.300 dollari. E questo in pratica ci porterà poi al differenziale ci porterà a quel tipo di rendimento ovviamente in questo caso specifico il 304,45 è il rendimento che si ottiene dall'apertura dell'anno 2020 alla chiusura dell'anno 2020 e quindi non dal minimo al massimo ma dall'opening e quindi 7.161 nel 2020 fino alla chiusura 28.993. In questo caso io ho realizzato appunto il 304% quindi questo tipo di interesse è già comprensivo di questa accumulazione perché appunto non ottengo nuovi bitcoin ma una valorizzazione dei miei bitcoin. Se invece mettessi a rendita i miei bitcoin e li faccio aumentare quindi non ho un bitcoin ma un bitcoin è 1, un bitcoin è 2, un bitcoin è virgola 3, virgola 4, virgola 5 però si creerebbe una torta di interesse composto. Quindi andiamo a ragionare sulla questione dell'interesse semplice in questo caso. Quanto è il tasso di interesse che mi serve ragazzi? Allora giusto per farvi sorridere, è veramente solo cifre abnormi, vi metto qui 3000% di tasso di interesse annuale, arriviamo ovviamente a 310.000 dollari di capitale finale. Se quindi io vado ad aggiungere diciamo il moltiplicatore enorme 5x insomma una cosa del genere vedete 5k quindi 500k di investimento mezzo milione. Quindi in sostanza ragazzi bisogna avere per raggiungere un capitale da 1 milione di dollari finale bisogna andare ad avere un tasso di interesse annuo del 9.900% partendo da 10.000 dollari. Allora ovviamente questi sono dati per fare il calcolo ragazzi per questo gioco che stiamo facendo capisco anche bene che magari qualcuno potrà dire vabbè a me basta anche di meno no? Però giusto per farvi comprendere quanto effettivamente deve essere un movimento per cambiare 10.000 dollari in un milione di dollari ragazzi è una cifra veramente importante in termini di rendimento 9.900% di rendimento. Quante esistono nelle top 100 cripto, nelle top 50 cripto attuali che sono quelle che capitalizzano di più, le cripto che hanno dato una performance del genere immaginiamola non nell'anno 2021 ma nell'intera bull run per l'anno 2021 diventa un po' possibile. Ci sono quest cripto e quindi è possibile vedere magari un eventuale alt season il prossimo anno dopo l'alving di bitcoin è possibile che se riuscite a prendere quelle che sono quest cripto poi magari riuscite anche ad ottenere performance di questo livello sempre ammesso che abbiate il sangue freddo di premere il bottone sell al punto giusto che già questo diciamo è una cosa estremamente complessa. Andiamo a fare il calcolo allora ipotizziamo bitcoin però non dall'anno 2020 ma proprio dalla zona qui intorno ai minimi del 2019 dall'inizio diciamo della bull run fino al massimo 1726% bitcoin immaginando appunto di prendere più o meno il minimo il massimo avremmo quasi il 1900% quindi 10.000 euro investiti nel 2019 per quanto riguarda bitcoin al minimo del 2019 venduti ai massimo avrebbero performato il 1900% che aggiunto qui in pratica ci dava questo risultato non da buttare assolutamente ma comunque con 10.000 euro facendo il trader il trade più efficiente della storia praticamente nella bull run precedente vi sareste trovati con circa 200.000 dollari 1900.000 euro scusate ragazzi in questo caso vabbè cambia poco che sto usando qui mi porta gli euro ma sto usando dollari in questo caso quindi ipotizziamo dollari non solo euro allora questo ve la fa capire lunga perché anche la performance stellare di bitcoin non è assolutamente bastata allora andiamo a fare un altro calcolo prendiamo per esempio eth allora andiamo a dire vabbè andiamo a vedere eth allora che cosa ha fatto perché eth comunque ha avuto un andamento abbastanza più insomma più importante intanto il minimo eth lo raggiunge già nel 2020 prezzi di bit stamp con il minimo della covid della pandemia ma non nel 2019 quindi ipotizziamo dai minimi di eth fino ai massimi una performance importante cinquemila trecento venticinque per cento e allora qui già ragazzi si iniziano a fare numeri rilevanti infatti tanto è vero che moltissimi mi hanno chiesto no tanto tempo fa dici maro ma nell'ultima bull run come è andata con bitcoin io ho risposto sempre ragazzi nell'ultima bull run i miei profitti sono stati molto più consistenti con eth che con bitcoin questo bitcoin avevo capitali maggiori però su eth io ho molti capitali e infatti eth è stata diciamo la mia performance della 2000 di quell'anno lì perché poi le altre non avevo quasi niente quindi cinquemila treventicinque quindi è stato sopra cinquemila tre e venticinque beh beh è notevole ragazzi eh quindi con diecimila euro investendo in eth nell'ultima bull run e parliamo di eth nonno di una cripto qualsiasi insomma eccetera avremmo ottenuto cinquecento quaranta duemila dollari ovviamente essendo trader perfetti quindi comprando ai minimi vendendo ai massimi cosa estremamente improbabile se devi dire quasi impossibile non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere e soprattutto se succede solo unicamente fortuna di solito comunque un pochettino si lascia al mercato trovi comunque questa è già una performance eh notevole poi ci sono delle cripto che nella pool precedente avevano performato molto 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 bene una di questi per esempio è Solana andiamo a vedere Solana che cosa aveva combinato prima del crash e e cerchiamo di di capire se effettivamente poteva eh dare eh uno spazio adeguato anche eh Solana allora intanto eh prendiamo eh prendiamo un grafico con più storico eccolo qui ragazzi eh allora iniziamo intanto qui ne abbiamo prima del duemila venti di questa zona del duemila venti quindi ipotizziamo duemila venti fino ai massi praticamente tutto il grafico di Solana prima del crash e beh Solana ragazzi fa numeri stellari c'è da dire che però bisogna un po' semplificare questa cosa perché è un po' imprecisa per via del fatto che poi eh venne venne lanciato diciamo in quel contesto quindi io il prezzo di partenza non lo prenderei in considerazione ma prenderei questo prezzo ragazzi che è il prezzo eh dove alla fine in di aprile maggio duemila venti si poteva acquistare Solana circa zero cinque eh per cento allora ragazzi Solana da questa struttura di prezzo nel duemila venti anche se la mettiamo appunto non noi minimi perché quello è stata una struttura di lancio eccetera però già iniziava a essere eh tradata a questi livelli di prezzo a una performance del fino ai massimi storici che poi avvennero nel novembre del duemila ventuno eh del trentanovemila quattrocentottantasette per cento ragazzi ovviamente è un anno e un poco però ve lo ripeto trentanovemila quattrocentottantasette per cento proviamo a a metterlo qui trentanovemila quattrocentottantasette per cento e il calcolo è impietoso avremmo tre milioni e novecento cinquantotto e passa mila dollari te lo ripeto questa cosa diecimila dollari su Solana ma vi faccio vedere anche un'altra cosa ragazzi anche se noi avessimo eh utilizzato diciamo questa cripto eh da dicembre quindi dal gennaio duemila ventuno che già aveva fatto tutto un anno insomma si era sviluppata avremmo comunque fatto una performance del mille quattrocento quaranta per cento quindi comunque avremmo raggiunto i target quindi Solana passa i questo questa diciamo lista e entra tra una di quelle coin che nella precedente burranna hanno fatto diventare milionari tutti quelli che avevano investito diecimila dollari quindi una cifra non piccola ma neanche tanto grande diciamo normale ci fa semplice e su questo tipo di criptovaluta andiamo a fare l'altro esempio che è quello di polling on matic anche questa una super cripto che ha dato grandi soddisfazioni anche in questo caso non possiamo utilizzare il grafico a dodici mesi perché sarebbe diciamo impreciso visto il lancio nel 2019 andiamo a utilizzare il grafico settimanale per eh diciamo bypassare tutti queste oscillazioni iniziali quindi ipotizziamo questa zona qui che è già ottobre duemila venti quindi in pratica è come se noi diciamo insomma dopo la questione del covid anzi facciamo così dalla struttura del covid fino ai massimi della bull run ventiquattromila centoottanta per cento quindi diecimila dollari investiti su polling on ventiquattromila centoottanta per cento avrebbero reso due milioni quattrocento ventotto mila dollari va bene la stessa cosa possiamo farlo anche andando a utilizzare eh un'altra cripto estremamente diciamo molto semplice ragazzi che è stata per esempio binance coin e vi faccio vedere anche in questo caso binance coin che è una cripto anche qui bypassiamo tutta questa fase andiamo a prendere la in questa zona in questo caso si può utilizzare per esempio la zona del eh duemila ehm diciannove duemila venti in poi quindi in questa fase di burran da qui in poi vedete dal duemila diciannove ipotizzando questa questione qui abbiamo il dodicimila novecento trentaquattro per cento dodicimila novecento trentaquattro per cento eh mille eh diecimila dollari sarebbero diventati un milione e trecentomila dollari bene allora l'illusione cripto non è poi così tanto una illusione ragazzi vero perché queste criptovalute non sono neanche progetti tipo le meme coin shiba inu doge coin eccetera che anche loro hanno performato così ma sono cripto abbastanza semplici abbastanza comuni e che erano sulla bocca di moltissimi investitori cripto in quegli anni e non eravamo neanche negli anni eh iniziali di bitcoin quindi quando nessuno conosceva il mondo cripto investire mille dollari diecimila dollari in queste criptovalute binance coin per esempio era molto semplice molto probabile quindi era una cosa che si poteva fare con tranquillità ma allora perché in molti sono rimasti scottati nonostante queste performance stellari di queste cripto e bastava veramente avere un nulla adesso abbiamo fatto l'ipotesi di diecimila dollari ma bastavano anche mille dollari ragazzi e basta insomma comunque sarebbero diventati centinaia di migliaia di dollari quindi per quale motivo invece in molti sono rimasti scottati eh su queste su questo mercato e per quale motivo in molti eh poi si pongono l'idea di dire è benissimo solo bitcoin e ethereum eh sono nel lungo periodo hanno performato bene vera questa cosa perché solo bitcoin e ethereum si stanno eh avvicinando diciamo agli all time high eccetera però ragazzi c'è da fare anche una domanda il problema di fondo è perché molti investitori che hanno passato l'anno 2020 2019 ad oggi non sono non vi dico milionari ma comunque iper benestanti è uno e uno solo la mancanza di formazione cioè l'incapacità di sapere che era un trend invertito l'impossibilità di vendere cioè il fatto che molti investitori non erano formati nell'ambito del trading e degli investimenti non sapevano gestire questa posizione non sapevano gestire questi mega rialzi che erano avvenuti e quindi quando i mercati hanno iniziato una fase di ribasso non l'hanno visto eh semplicemente non sono usciti quindi dopo questa fase immaginiamo diciamo non un rientro diciamo sui minimi però già per esempio questa fase eh post covid di Binance Coin qui insomma si poteva tranquillamente andare a utilizzare ed eravamo comunque intorno al quattro mila cinquemila per cento eh vicino ai massimi e ipotizzando anche un settore un sistema di uscita classico qui c'è un doppio massimo quindi normale a inversione di questa trendline proprio la banalità veramente dell'analisi tecnica eh quindi proprio cose banalissime ragazzi anche qui si sarebbe preso profitto con un circa tremila per cento di di rendimento che non è insomma una cosa da giocare quindi anche gestendo queste precisioni avremmo avuto comunque un profitto stellare ragazzi allora cosa è mancato perché in tanti sono rimasti scottati da questo mercato nonostante performance che potevano portare diecimila dollari a milioni di dollari ragazzi e quindi l'illusione cripto non è in realtà una illusione del tutto ma è l'illusione è solo il fatto che si possa fare queste performance senza avere formazioni perché poi quando arriva il momento di chiudere i giochi di prendere profitto si annebbia la vista non si sa cosa fare e si commettono tanti tantissimi errori è molto più difficile di quello che sembra ve lo assicuro bene per oggi è tutto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e io lo so qualcuno di voi vedrà questo video e si arrabbierà moltissimo perché in molti saranno rimasti appesi non è facile sappiatelo quindi non è che vi sto dicendo che è una cosa semplice però la prossima volta formatevi per non fare lo stesso errore ciao ragazzi